Niki Maempah, il finlandese lancia lungo in mezzo, attenzione perché c'è Harry, il pallonetto di Harry! E' il vantaggio del Venezia! Rinvio di Maempah, Harry con un morbido tocco sotto, supera Skorupski e dopo soli 4 minuti di partita il Venezia in vantaggio, difesa del Bologna completamente bucata dal rinvio di Maempah Teat e Medello lasciano passare in mezzo e Harry solo davanti a Skorupski, non sbaglia sfruttando l'assist del portiere Maempah Não sbaglia sbaglia! Non sbaglia! E' un po' di le po' di chiara! E' un po' di quelle che va azzaro! Grazie a tutti.